È cambiato a Padova come è cambiata l'Italia. Sono dinamiche e quindi anche criminali che mutano. C'è una criminalità magari più mordi e fuggi rispetto al passato che richiede anche un impegno investigativo diverso, più snello, più rapido. Per questo per esempio abbiamo cercato, rinforzando quei nuclei noti come nutri o faine, che fanno proprio il contrasto al crimine diffuso. Ho fatto un'esperienza lavorativa incredibile con una squadra che ovviamente rimane con grande motivazione, con grande entusiasmo. E soprattutto abbiamo avuto l'appoggio sincero, sentito della cittadinanza che, seppur giustamente esigente, non ha fatto mai mancare il supporto e anche l'incoraggiamento ad affrontare le varie forme di criminalità che sono presenti a Padova.